La prima parte, diciamo circa un terzo di questo testo, di circa 200 pagine, tra l'altro un testo bilingue, in italiano e in inglese, quindi sono praticamente due libri in uno, volendo, con le traduzioni istantanee. La prima parte, circa un terzo, è quella diciamo più tecnica e strettamente accademica, cioè si parte dalla formazione del suono, poi del controllo delle casse di risonanza, controllo della respirazione, diaframma, eccetera, tutte le parti tecniche, con i relativi esercizi, circa una quarantina di esercizi, che si ritrovano poi nel CD allegato, con il pianoforte, gli insegnanti che fanno alcuni esempi di ogni esercizio e poi il pianista che accompagna per un eventuale esercizio a casa. A questo punto vorrei aprire una veloce parentesi. È chiaro che questo libro si può fare da autodidatta, si può seguire da autodidatta. Consigliamo sempre però l'aiuto professionale di un insegnante che conosca poi soprattutto questo metodo. E veniamo al metodo, come mai crossover? Anche questo viene spiegato nella prima parte, perché è praticamente questa terminologia che abbiamo usato negli anni con tutti gli artisti con cui ho lavorato, eccetera, per definire la voce quando raggiunge la posizione ottimale, con la laringe abbassata, le casse di risonanza postate in un certo modo, eccetera, eccetera. E quella è la posizione crossover, che quindi dà anche il titolo a questa tecnica. Poi la seconda e la terza parte, diciamo, di questo testo è dedicata a degli argomenti di cui io e il mio editore abbiamo la presunzione di pensare che sia forse unico sul mercato ed è stato uno degli incentivi principali che ci hanno spinto appunto a pubblicare quest'opera e cioè trattare di tanti argomenti che sono rimasti sempre o non trattati oppure trattati al di fuori di quello che è l'aspetto cartaceo ed accademico, a volte da alcuni insegnanti, eccetera. E cioè tanti argomenti cominciando dall'intonazione stessa, ad esempio l'intonazione è sempre esistita questa credenza, se sei stonato è meglio che non fai il cantante, giusto? Mentre invece l'intonazione è un fattore acquisibilissimo, così come un cantante che è intonato può acquisire l'intonazione assoluta, a me sono concesso che già non ce l'ha, ma questo cosa dimostra? Che l'intonazione con un esercizio, con un certo tipo di percorso si può ottenere, quindi così come un cantante che è già intonato può ottenere l'intonazione assoluta, perfetta, una persona che non è ancora considerata dai canoni tradizionali cantante perché è stonata può intonarsi e spieghiamo cos'è il principio dell'intonazione, come funziona, lo facciamo capire e in più suggeriamo degli esercizi, e uno può anche svilupparci poi da solo ci arriviamo degli input quasi omeopatici, nel senso facendo capire la filosofia di base di questi esercizi, poi uno si fa, si crea i suoi, per aumentare la capacità di controllo sull'intonazione. Dopo questo altri paragrafi, altri capitoli dedicati all'arrangiamento vocale, alla produzione vocale, agli stili, tutti i vari stili musicali e quindi gli stili di canto, perché se no ci ritroviamo, come racconto in un aneddoto molto simpatico nel libro, con il mio collega e carissimo amico Seth Riggs a Los Angeles, e lui è appassionato di bel canto, a un certo punto è diventato talmente concentrato in questa tecnica, insomma io l'ho visto proprio dire a Stevie Wonder e a Michael Jackson, perché non cantavano come Pavarotti, quelli li lo guardavano come un ufo, ecco, arriviamo questi punti, quindi questo per dimostrare cosa, che Stevie Wonder e Michael Jackson, anche se non cantano secondo i canoni classici del bel canto, cioè non toglie che usano la loro voce in modo estremamente corretto. Ecco, a questo punto ci piacerebbe vedere qualche esempio pratico di esercizio. Gli esercizi, credo che mai, sono i soliti esercizi che vanno dalle scale più semplici per abituare, prima di tutto per riscaldare la voce, e questo è uno dei classici, che usano sempre anche Seth Riggs e tutti gli insegnanti di questo mondo, penso sia quello dove sostieni le guance, devi rilassare i muscoli della guancia, sostenendoli devi far vibrare le labbra, non badare al suono, anche se è orrendo, non stiamo pensando al suono, stiamo pensando ad un esercizio inibitorio che abbassa la laringe, ad esempio, vedi che le labbra vibrano, se le labbra vibrano vuol dire che la laringe è abbassata, se nel fare questo esercizio con le scale poi, eccetera eccetera, se le labbra non vibrano vuol dire che la laringe si è alzata. Ecco, esercizi come questi, ce ne sono tantissimi, nel libro ne abbiamo raggruppati una quarantina, che vanno dal riscaldamento della voce come questo, al potenziamento del diaframma, a sviluppare la velocità nell'esecuzione delle note, i salti, gli intervalli e quant'altro. Questi esercizi noi li raccomandiamo a tutti, a chiunque usi la voce, non solo a chi canta, a un attore, ai nostri politici prima delle tribune politiche, poi vedo qua in Italia, in Italia urlano moltissimo durante questi incontri, quindi forse gli consiglio la tecnica vocale crossover, Dio ci aiuti dopo, vedremo cosa succede. E tanti altri esercizi che consigliamo di fare, io personalmente consiglio la mattina come uno si sveglie, i primi 5 minuti, esercizi di riscaldamento, così si posiziona la laringe, anche quando si ha, anzi soprattutto quando si ha un po' di raffreddore, un po' di bronchite, quelle cosettine lì, chiaramente la laringe lì sarà un po' ingrossata, dovuta al fatto che casomai sia infiammata e sembra che sia alta, però abbassarla fa sempre bene, forse non si sarà in pista per cantare un do di petto ancora, però tenerla abbassata, così quando si parla, eccetera, perché ad esempio chi canta ha la tendenza di solito quando parla a non usare la voce impostata, la imposta quando lo canta, ma quando parla invece è lì dove perde la voce, perché non la usa impostata, così si sentono tanti di quei tenoni, invece i classici che pavano tutto così, e loro lo usano bene.